Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare disse a Simone, prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose, Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farli quasi affondare. Al vedere questo, Simone Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone, Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Pace e bene, eccoci di nuovo insieme, carissimi amici, per un nuovo appuntamento con la parola di Dio, con la parola che la liturgia propone per questa domenica, quinta del tempo ordinario. Davvero, ogni volta che ci poniamo con le giuste disposizioni del cuore e della mente, all'ascolto della parola, ci rendiamo conto di vivere un'esperienza unica, sempre nuova, di incontro con il Signore. Questa domenica è davvero particolare perché ci permette di riflettere su tanti temi che ci riguardano, che riguardano la nostra vita spirituale. Se da una parte sia la prima lettura che il Vangelo ci presentano un momento della chiamata rispettivamente di Isaia e di alcuni apostoli, dall'altra ecco che sottolineano la fiducia di coloro che sono chiamati e la disponibilità a compiere una missione. Poi udì la voce del Signore, racconta Isaia nella prima lettura, dopo aver descritto questo particolare incontro con il Signore che gli purifica le labbra con il carbone ardente, quasi ad abilitarlo alla sua nuova missione, ebbene Isaia dice, udì la voce del Signore, diceva, chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi, eccomi, manda me. Sono parole che descrivono proprio la disponibilità del profeta Isaia a compiere tutto quanto il Signore gli avrebbe chiesto. Così anche il brano del Vangelo ci presenta dappriva lo stupore di Simone quando Gesù gli chiede di prendere il largo per la pesca. Maestro, dice Simone, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Simone dimostra poi una pronta fiducia nel Signore, gli crede ed ecco il miracolo. Presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Di fronte a questo miracolo, Simone Pietro si sente, sente tutto il suo stato di peccatore e chiede a Gesù di allontanarsi. Ma Gesù lo sceglie e gli comunica anche la missione. Non temere, gli dice, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ad una chiamata allora corrisponde poi sempre una missione da svolgere. Allora ci chiediamo anche noi, sulla base di questa esperienza vissuta da uomini di fede prima di noi, ci chiediamo cosa vuole il Signore da me. Cosa ha pensato per me. Diciamo sempre di essere chiamati e di questo forse ne siamo abbastanza convinti, ma probabilmente spesso dimentichiamo che c'è una seconda parte che ci lega in questo rapporto di comunione con il Signore e che è appunto la missione da svolgere. Abbiamo una strada da percorrere carissimi fratelli e sorelle e questa strada è proprio la strada della santità. Siamo chiamati per la vita eterna in Lui, per vivere eternamente nel suo amore. Ecco allora che non possiamo dimenticare che uno degli atteggiamenti necessari e fondamentali per percorrere questa strada è proprio quello di fiducia in ciò che il Signore è capace di compiere nella nostra vita tramite la nostra disponibilità. Come Simon Pietro dobbiamo avere fede in Lui e dire ogni giorno mi fiderò della Tua parola, sulla Tua parola getterò le mie reti. So che qualsiasi cosa Tu vorrai, o Signore, la compirai. Con questi sentimenti allora vogliamo accogliere la Sua parola che ancora una volta ci viene incontro, ci rinnova e ci salva. Pace e bene e buona domenica a tutti. Pace e buona domenica a tutti. Grazie a tutti